A presto, a presto. A presto. A presto. A presto. No, no, non c'è un metico da me, è un pazzo da dire, dai. È sempre il patto, eh. È un bel patto, eh. Qua va Ok Ho preso Ok Qua va Se l'ha andata Ah, se l'ha andata Ok Ok No, mi trovo 203 8 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 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 15 15 15 15 15 15 12 15 15 il carico fa tutto all'utente di prima che gli è stato contestato l'articolo 142.9 gli abbiamo ritirato la patente di guida in quanto è stata rilevata a una velocità di 203 km orari su un tratto di strada sottoposta al limite di 130 km orari e per quanti punti sono stati tolto? 10 punti, per questa situazione è prevista la recortazione di 10 punti sulla patente di guida grazie